Ciao, sono Rita, vivo a Brescia e voglio ringraziare TeleCountry News e tutti i partecipanti a Infiorata Diffusa, i gensanesi, che ci permetteranno anche quest'anno, anche se in modo diverso, ma con fantasia, di vedere e partecipare all'infiorata. Grazie ancora, ciao TeleCountry News, ciao gensanesi, fate bravi e fate una bella infiorata, ciao!